Non si tratta di asse, noi abbiamo fin dall'inizio messo la faccia in una richiesta mettendo insieme una serie di atti e una serie di azioni compiute dal Presidente Napolitano. L'unico asse che noi vediamo in questo momento è quello di due forze politiche, PD e PDL, che stanno facendo con i soliti mezzucci della politica, sgambetti a destra e a sinistra e tirando la giacchetta. Perché la notizia è che De Benedetti, testa numero uno del PD, sul Corriere un suo video mette nei guai praticamente il Presidente Napolitano. Quindi questi sono i veri fatti, i veri assi che noi vediamo.